...e le fotografie sono dettagli dei borghini e alcune delle vestibili per l'isolare abbastate, quindi le tasca vie anche abbastate significativi, in particolare c'è le versioni... ...no, che si dipende, che è la potenza, che è la classica, ma la terra si trova a guerra, che 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 è tornata pienamente sfrattata, poi l'editano, che è fondamentale, che è un locatore di ultimi anni della storia, che c'è la terra. Quindi, questa terra, in quel mondo, era attraversata non solo la grande sforzamento politico, ma anche da fermento culturale e, però, da manifestazioni molto originali della cultura e del pensiero. Pensate che, appunto, in questa Atene di Platone, a un certo punto, compaiono i sofisti. Queste persone, no, che dicono di insegnare la retorica, dicono che non esiste una verità assoluta e dicono addirittura che non esistono gli dei. E pensate che novità per un greco sentire che non esistono gli dei. Cento anni prima, nell'Atene di Solone, sarebbe stato impensabile che qualcuno andasse a dire in giro che gli dei non esistono. Invece, nell'Atene di Platone, ci sono questi uomini importanti, grandi maestri, studiosi, retorica, che vanno a insegnare in giro, appunto, che gli dei non esistono. Accanto a questi c'è la manifestazione avversa, se vogliamo, perché, come sapete, in periodo di crisi il mercato è sempre poliforme, no? Quindi, se ci sono quelli che dicono gli dei non esistono, no, ci sono invece i santoni, no? Ci sono questi ciarlatani che, di cui Platone parla nella Repubblica definendo gli orfi o telestai, questi, appunto, ciarlatani che vanno in giro a vendere l'iniziazione ai misteri. Ma la vendono proprio, così, su due ore. Due ore te li paghi, io ti inizio ai misteri e te, in due ore, percorri un percorso che, in realtà, come vedremo, ci volevano anni per ricevere l'iniziazione ultima, no, dei misteri. Questi, invece, no, vendevano le iniziazioni così. Tu stai tranquillo, poi, per l'aldilà, appunto, quando muori, sei iniziato, non andrai nell'Ade a morire, a scomparire, ma andrai nei prati della verità vascolare. Quindi, vediamo che questa Atene è una città in crisi, attraversata da questi fermenti, e con una classe dirigente, una classe di giovani uomini allo spanto, che non sa più chi seguire, se quelli che dicono che di te non esistono, se quelli che dicono che di te esistono, che hanno iniziazioni. Ecco, in questa Atene, qui, ci sono sempre stati i misteri di Eleusi. E che cosa sono i misteri di Eleusi? Eleusi è, in realtà, un tempo di Atene, è una piccola città a 40 chilometri. E, ancora oggi, a Eleusi, se ci andate, potete ammirare le vestigia del Telesterion, ovvero il grande tempio delle iniziazioni, dove, appunto, si celebravano i reti di misteri di Eleusi. Questo tempio, pensate, è il tempio più grande mai costruito dai greci. È stato costruito all'età di Pericle, ha più di 40 colonne, ha un'area di più di 300 metri quadri. È davvero un tempio imponente. Questo testimonia, oltre che la ricchezza di Atene all'età di Pericle, l'importanza che questo luogo e questo culto avevano per la città di Atene e per la cittadinanza di Eleusi. L'origine di questi rituali, di questi misteri, è molto famosa, nel senso che sono molto antichi. Nelmeno gli Atenesi sapevano qual era l'origine dei misteri di Eleusi. Si sapevano solo che erano molto antichi. Oggi c'è chi dice che vengano da Creta, che siano resito di una religione pre-greca, ovvero prima dell'arrivo degli elleni, quella popolazione indoeuropea che si è insedata in Grecia. C'è chi dice che vengano dall'Egitto? Comunque, insomma, si sa solo che sono antichissimi. I primi resti archeologici, nella zona santuaria, erano già antichi dai tempi di Platone. Ai tempi di Platone gli misteri di Eleusi erano gli misteri antichi, quello che facevano gli antichi. E nei misteri di Eleusi sappiamo che ruotavano attorno a due dee, erano dedicate a due dee che sono Demetra e Persephone, dee della mitologia greca, che sono celebre per un bellissimo racconto che ci riporta Omero, e anche qua ha ulteriore testimonianza dell'antichità di questa tradizione. Nell'inno a Demetra di Omero, Omero racconta proprio la storia di Demetra e Persephone, che è finita di Demetra, e questa bella ragazza che un giorno, quando sta vagando nel campo di fiori, tipica scena bucolica della mitologia greca, e quando c'è una scena bucolica sappiamo già che succede qualcosa di spaventoso, appunto la terra si apre, esce fuori Ate, il dio dell'oltretomba, con un carro nero trainato, da mille cavalli, arrivano, prendono Persephone e se la porta con sé, nell'oltretomba, perché la vuole come sposa, Ate ha deciso, con la compiacenza ovviamente del suo buon fratello Zeus, che Persephone deve essere la sua sposa. Demetra, insomma, che è la madre di Persephone, che è la dea della fertilità, è la dea delle bionde messe di grano, la dea che fa fiorire la terra. Quando scopre di questa improvvisa scomparsa di Persephone non si dà pace e si lancia per tutta la terra a ricerca, lancia santemente, notte, giorno, smette di dedicarsi a qualsiasi altra attività, vagabonda in tutte le zone della terra, alla ricerca della figlia e non la trova. Alla fine, l'esolata si ferma ad Eleus, appunto, questa città, di questo tempo di Atene, si ferma su una roccia che ancora oggi è chiamata la pedra, Aghelastos, la roccia triste, e inizia a piangere, un pianto inconsolabile. Ovviamente, come sapete, gli dèi non si mostrano mai agli uomini, quindi Demetra ha assunto le sembianze di una vecchia. E questa vecchia che piange, insomma, fa scuscita pietà, con l'inserazione di quello che è il re di Eleusi, Celeo, con la sua sposa, Netanira, che dicono, ma insomma, facciamo entrare questa povera supplice nella nostra casa e diamogli, insomma, l'ospitalità. Solo che lei rifiuta tutto, rifiuta il vino, rifiuta la birra, rifiuta di mangiare, lei berrà solo una bevanda che distrusce lei come preparare il ciceone, che poi ritroveremo nel rito di Eleusi. E c'è il famoso episodio in cui Giambe, una vecchia donna simpatica, la fa ridere con una battuta oscena, una di quelle battute volganiche oggi non si possono replicare in questo contesto, però, all'epoca i greci, le c'erano. Quindi ride per un attimo, però, e poi torna nel suo lutto, fino a che, appunto, la regina non va con questo figlioletto, Demofonte, e lo dà a Demetra e dice, io oramai sono una donna vecchia, ho avuto questo figlio in tala età, vorrei che tu lo accudissi, lo crescessi come una balia, no? E Demetra, allora, insomma, rindigorita, si inizia a prendere cura di questo bambino. Se non che una sera, appunto, succede una cosa strana, che Metamira vede, mamma di Demofonte, questo bimbo affidato a Demetra, Demetra vede in una stanza del fuoco, nel fumo, un bagliore, strano bagliore, entra e vede suo figlio nel fuoco, dentro un farò. Allora, ovviamente, spaventata, va per salvare il figlio e in quel momento appare Demetra. Demetra appare, non più come mendicante, come supplice, ma come tea, questa volta, con tutto il suo splendore, e dice, sciocchi voi umani, che non lasciate, non avete fede in quello che fanno gli dèi. Io avrei reso il tuo figlio immortale, se l'avessi fatto stare tutta la notte in fuoco. Invece tu, a metà del mio procedimento, hai interrotto il tuo figlio e non sarà mai mortale. Però, siccome mi avete mostrato la benevolenza, io vi donerò una cosa, vi insegnerò i miei ritmi. E questo, appunto, è il momento in cui nascono i riti di Eleusi, i misteri di Eleusi, che hanno proprio questo obiettivo, non di rendere immortale l'uomo, perché i greci lo sanno benissimo che l'uomo non è immortale, i dèi sono mortali, però i misteri di Eleusi hanno qualcosa dell'immortalità, fanno partecipare l'uomo dell'immortalità, di questa dimensione che nell'antica Grecia è solo riservata agli dèi. Un dito va avanti, vabbè, come saprete, che poi Dio Sole, impietosito, manda suo figlio a dire a Demetra che Persephone si trova nell'oltretomba, in un matrimonio a cui la costretta lui, con la compiacenza di Zeus, Demetra si arrabbia, decide di scioperare. Demetra decide che da quel momento la Terra non fiorisce più, gli uomini moriranno di fame, se gli uomini non muoiono di fame, qual è il problema? Non gli uomini muoiono di fame, il problema è che gli dèi non hanno tutti i sacrifici e gli dèi si arrabbiano, insomma, non va bene, gli uomini non ci fanno tutti i sacrifici. Insomma, risultiamo questa faccenda, Hermes, il messaggero, va ad Ade e dice, lascia libera Persephone tornare alla luce della sua madre, Ade dice, certo, la lascia andare. Però le dà un melograno, no? Persephone si muoce di questo melograno, da quel momento Persephone sarà per sempre legata agli inferi, al mondo dell'oltretomba, tanto che sei mesi li farà sulla Terra e sei mesi li farà sotto la Terra. Ed è così che quei sei mesi che Persephone passerà sottoterra, in memoria dell'antico lutto, la Terra morirà e sono mesi dell'autunno e dell'inverno. E appunto, a primavera invece Persephone ritornerà sopra la Terra e la Terra rifiorirà, rifiorirà e rinasce. Vedete, con questo racconto i greci si spiegavano l'alternanza delle stagioni, i greci avevano un racconto per tutto, con questo si spiegavano l'alternanza delle stagioni. E da questo racconto noi sappiamo quindi che misteri, gli eleusi erano incentrati sulle figure di queste due dee, Demetra e Persephone. Certo, non sappiamo, questo non lo sappiamo, come questi riti si svolgevano. Appunto, se oggi abbiamo questa parola che mistero è qualcosa che non si conosce, è perché insomma il segreto iniziatico ha trionfato. Nel senso che gli eriti, gli eleusi erano una rita a cui poteva partecipare tutta la cittadinanza. Quando c'erano le feste e le osine, gli misteri si vendivano nei piccoli misteri che li festeggiavano in primavera e nei grandi misteri che li festeggiavano in autunno. Quando c'erano i grandi misteri d'autunno, poi il Dromione, che è il nome del mese nel calendario attico, era una festa per tutta la cittadinanza. La festa iniziava ad Atene, cominciava questo grande corteo a cui potevano partecipare tutti, anche i bambini, in cui questo grande corteo pieno di carri, in cui c'erano questi scherzi che si facevano i partecipanti lanciandosi insulti dal carro. C'è una parola che greco vuol dire proprio insulto dal carro perché era un clima gioioso di festa, di danze, di musica, molto dionisiaco perché anche Dioniso è una presenza importante all'interno dei misteri di eleusi, fino a che questo corteo non arrivava al telestereo. Al telestereo si arrivava, si continuava a sfociare, a bere, a divertirsi, a ballare, e poi ad un certo punto l'hierofante prendeva la parola e intimava la prorrezis, ovvero il discorso in cui in quel momento iniziavano i grandi misteri, quelli riservati solo agli iniziati, e chi non aveva ancora ricevuto l'iniziazione preliminare doveva abbandonare il telestereo, doveva abbandonare eleusi appena la morte. E non scherzavamo su questo, pensate che Eschilo, il grande poeta Eschilo dovette scappare da teatro a rifugiarsi nel tempo di Artemide e farsi supplice per evitare il linciaggio della condanna morte perché fu accusato di avere rivelato nel corso di una delle sue rappresentazioni dei ciclodi, una parte del rituale di eleusi. Quindi a questo gli attenesi tenevano molto, il mistero dell'eleusi non deve essere violato. E appunto era così il mistero che è rimasto il mistero e che noi non sappiamo che cosa facevano all'interno del telestereo questi iniziati, guidati da tutta una serie di personaggi che rappresentavano il clero di eleusi, di erofante, e da duchi. E quindi noi davvero quando ci dobbiamo mettere a ricostruire il rituale di eleusi siamo davvero come quei profani che si affacciavano alle mura del telestereo a vedere che cosa sono a fare questi qua dentro, no? Ovviamente noi non rischiamo la testa, all'epoca la rischiavano, quindi noi lo facciamo molto più volentieri. Sappiamo qualcosa comunque, sappiamo che ci sono tante ricostruzioni, sia che hanno iniziato a fare proprio gli antichi perché questi misteri piacevano molto, gli antichi invece nell'età imperiale, nell'età romana, il primo che se ne occupa in maniera filologica è Plutarco, ci parla molto di questi misteri. Noi sappiamo solo che all'interno del telestereo si facevano questi rituali molto elaborati in cui gli iniziati dovevano entrare in comunione con lo stato d'animo di Demetra e di Persephone, ovvero dovevano vivere quello stesso passaggio che Persephone attraversa nel barcare le soglie dell'oltretomba, dovevano vivere la morte, dovevano attraversare la morte per poi rinascere. Ogni iniziato era Persephone. Dovevano invece di smarsi in Persephone compiere questa discesa, questa, non la chiamano i greci, catabasis, discesa sottoterra, per poi risorgere alla luce. Sappiamo quindi che proprio il passaggio dal buio dell'oltretomba alla luce era un momento fondamentale e dopo vedremo perché. Ma altro non sappiamo. Certo c'è rimasta qualche formula, c'è rimasta qualche gesto rituale, però non siamo in grado di ricostruire che cosa facessero iniziati in quei tre giorni che passavano all'interno del telestere. Sappiamo che c'era una divisione molto importante fra chi riceveva l'iniziazione ai grandi misteri e chi invece all'epopteia. L'epopteia era il momento culminante, la visione culminante alla quale bisognava essere preparati per almeno cinque o sette anni a seconda delle punti, però insomma richiedeva un lungo lavoro. Quindi ora che abbiamo parlato, spiegato di cos'erano gli misteri di Eleusini, perché Platone ha Eleusini? Beh, assolutamente perché proprio Platone è una delle fonti fondamentali per la ricostruzione dei rinti Eleusini, perché Plutarco quando va a descrivere proprio gli stati d'animo dei iniziati oppure il modo in cui all'iniziativo veniva fatta vivere l'esperienza della luce, che era un'esperienza fondamentale all'interno del mistero di Eleusini, usa termini, espressioni che nella letteratura precedente compaiono solo in Platone. Quindi ciò ha portato l'interno di usare Platone come possibile fonte di ricostruzione di Eleusini. Quindi per certo sappiamo che Platone conosceva lo svolgimento del rito Eleusino, lo conosceva in Platone. E sappiamo che proprio uno dei momenti cardine del rito era l'esperienza della luce e questa la ritroviamo nella letteratura platonica, questo passaggio dal buio alla luce in quello che forse è il più importante rito del racconto di Platone che è il rito della caverna e è di questo che oggi io vorrei parlarvi, del rito della caverna appunto. Anche il mito della caverna non richiede troppa presentazione, nel senso che è un mito, un racconto che ha influenzato la filosofia, l'arte, la letteratura per più di due secoli. Il mito della caverna lo ritroviamo nel cinema contemporaneo, il fornista di Bertolucci o Matrix o The Truman Show, insomma, il mito di questa realtà che appare, può essere ingannevole, può essere qualcos'altro. Il mito della caverna comunque lo ripassiamo insieme, Platone ne parla nel settimo libro della Repubblica, sta derideando, no? L'educazione che dovrebbero ricevere i governanti, quelli che devono governare lo Stato. E a un certo punto uno di manto gli dice, oh ma c'è proprio tutta questa necessità che vengono educati questi governanti, ma via, che stai facendo, stai passando, è da tre libri che Platone sta menando con l'educazione, delle filosofie. Allora a un certo punto Socrate dice, va bene, allora facciamo un esempio. Immaginiamoci una cosa per quanto riguarda la mancanza di educazione. Immagina che ci sia una caverna, un antro buio e cavo in cui sono incatenati da tutta la vita degli uomini, degli uomini che sono costretti a fissare una parete e che non possono muovere la testa. Su questa parete immagina che vengano proiettate delle ombre da un fuoco che si trova dietro le spalle, quindi dei prigionieri, poco non lo vedono. Immagina che, appunto, qualcuno mettessero i pupazzetti delle statuette davanti al fuoco e proiettasse le ombre lì davanti. Una specie di cinema anteriormente. Pensate che Platone si era immaginato al cinema. E appunto il suo interrogatore di Mantua dice, certo, è molto strana questa immagine, no? E Socrate risponde, strana, insomma. I prigionieri siamo noi, sono simili a noi. Ma che cosa succede ai prigionieri? I prigionieri vedono le ombre, hanno visto e conosciuto solo le ombre e pensano che le ombre siano la realtà. Le ombre è l'unica realtà possibile. Non esiste altro al di fuori delle ombre. Loro non hanno visto il fuoco. Immagina appunto che un giorno un prigioniero venga liberato, ovviamente contro la sua volontà, e questo prigioniero venga liberato e venga costretto ad uscire dalla caverna. Come si comporterebbe? Ovviamente avrebbe paura, sarebbe spaventato, vede il fuoco. Il fuoco gli brucia gli occhi, ha paura, vede questa grande fama, non sa che cos'è, vuole ritornare alle sue ombre, che sono tanto familiari, vuole ritornare alle sue catene. Invece non dimentichi che quest'uomo venga proprio trascinato via, fuori dalla caverna. Fuori dalla caverna cosa vedrebbe? Gli oggetti reali, del mondo reale, questa luce che ha variato tutti gli oggetti che però non è in grado di sostenere. Quindi dall'inizio partirà da vedere i riflessi, le ombre degli oggetti. E poi però piano piano il suo occhio si abituerà alla luce e il suo occhio prima o poi scorgerà il sole. Il momento in cui scorge il sole è chiaro tutto. È chiaro che tutta la vita l'ha passata in una caverna, è chiaro che tutti i suoi amici sono prigionieri, non ingannano. È chiaro che la realtà di fuori, così bella, così illuminata da questo sole, è molto preferibile alla vita della caverna. Quindi torna indietro, fa per dire agli altri della verità, dice guarda fuori c'è il sole, fuori c'è un mondo bellissimo, e gli altri non reagiscono, come lui aveva reagito all'inizio. Non gli credono, pensano che c'era danno, anzi si innervosiscono alla fine e lo uccidono. Questo è il mito della caverna. E' un mito che ha tantissime interpretazioni e che ha tantissimi riferimenti. Quello che ho fatto io all'interno della tesi e vi voglio vedere oggi con voi è come tutto questo percorso che porta il prigioniero fuori dalla caverna in realtà è un percorso iniziatico. Platone lo pensa proprio come un percorso iniziatico e, come riferimento, Platone ha i misteri di Elesi. Certo, partiamo col dire che l'immagine della caverna, l'immagine del sottosuolo ha molto successo nella tradizione greca. Ci sono tantissimi riferimenti, a partire dall'Odissea, il viaggio alla discesa che visse nell'oltretomba. Ci sono storie di uomini che vivono nelle caverne, che si incubano nelle caverne. Pensate a Epimenide, un grande sapiente cretese, dicono che abbia passato dodici giorni dentro una caverna e abbia fatto un viaggio a strada. C'era l'antro di c'era questa zona, questo buco, terra letteralmente, in cui quando un uomo voleva un oracolo da parte di Apollo si doveva incubare lì dentro e lì aspettare giorni e giorni fino a che una visione non gli avesse manifestato l'oracolo di Apollo. Quindi, come vedete, l'immaginario della caverna è molto ricca sia nella letteratura greca che anche però nelle letterature che erano contemporanee a quella greca, anche più antiche, solo che molto distanti dalla Grecia. Pensate che nell'Eupanishad si parla della caverna del cuore, il cuore nella tradizione vedica è l'organo che contiene l'atman, il sé, e si parla dell'atman imprigionato in questa caverna che ha il compito di risvegliare la sua energia potenziale, la Kundalini, l'energia tutta viuppata nell'interno, ha il compito di risvegliarla tramite che Dio? Il Dio Ate, che è il Dio del fuoco. E quindi pensate, anche nell'Eupanishad c'è questa immagine di una caverna con il fuoco, oltre alla quale c'è appunto il sole, e il sole nella tradizione vedica è il brachman, l'atman che sonnisce al brachman, è il sé individuale che sonnisce all'anima, è l'anima del mondo, l'atman che sonnisce al principio, al di là dell'essere delle cose. Al di là di questo appunto, non voglio dire che il creatore avesse letto il Veda o conoscesse il Veda, però è sempre interessante vedere come, no? In culture così lontane, quasi diverse, troviamo elementi comune. Quindi l'immaginario della caverna era molto presente nella cultura greca, era presente anche nei misteri di Eleusia. Una delle esperienze che doveva provare sulla sua pelle l'iniziato era la catabasis. Guardate, questa catabasis non era suggerita. I misteri di Eleusia erano organizzati in modo tale che l'iniziato dovesse provare sulla sua pelle il terrore di morire. Gli spaventavano per bene, nel senso che c'erano anche molti. Noi non siamo in grado di costruire passo passo il rituale, però molti studiosi e autoregoli come Burkert, un grande storico della religione antropologo, ha proprio stabilito che uno dei passaggi fondamentali per l'accesso ai misteri era spaventarsi, era perdere il senso del proprio senso, smarrirsi, effettuare questa catabasis, questa discesa. Questo smarrimento è lo stesso identico procedimento che prova il nostro prigioniero liberato. Il nostro prigioniero liberato viene appunto intanto liberato a forza, viene liberato da qualcuno, viene liberato, non si libera da solo. E noi sappiamo che all'interno del mistero di Eleusia gli iniziati erano seguiti dagli stagoti, da delle figure che li trascinavano letteralmente a esterire, a provare sulla sua pelle le parti più terrificanti del rito. Sappiamo quindi che l'iniziato era all'inizio almeno in un atteggiamento passivo, perché c'erano parti e momenti del rito totalmente terrificanti, appunto bisognava attraversare questa perdita del sé, che è sempre un momento in cui si attraversa il terrore, che appunto l'iniziato aveva bisogno di qualcuno, questo mistagogo, che era un tipo che li seguiva passo passo e che li costringeva spesso a fare delle cose. E' anche il motivo per cui, no, nell'età cristiana questi misteri sono stati tutti svalutati come pratiche barbare, come torture, no? Si diceva ai cristiani, no? Tertulliano, barichesco, mi dicono, ah, i misteri di Eleusia si torturavano gli iniziati. Certo, lui ci carica molto la mano nel dire queste cose, però di fatto è vero. Gli iniziati dovevano attraversare momenti di terrore. Il stesso che attraversa il personiero liberato, quando si libera da le catene e viene portato verso la luce. Un altro elemento che appunto, però, di estrema vicinanza fra il mito della caverna e i misteri di Eleusia è proprio questo passaggio, dal buio verso la luce. Ecco, questo è il passaggio che, come sappiamo, all'interno dei misteri era fondamentale e che anche all'interno della filosofia platonica è fondamentale. Perché il passaggio dal buio alla luce nella Repubblica significa il passaggio, il progredire verso, ovviamente, una forma di conoscenza, di chiarezza maggiore. Ma è proprio il passaggio da una forma, da uno stato della coscienza ad un altro. Per evidenziare questo Platone è necessario parlare di un'altra immagine che lo stesso Platone ci offre nel libro prima, nel libro sesto, che è quello del segmento, della linea. Lui a un certo punto dice di immaginarsi che la mente umana, la conoscenza a cui può provare l'uomo, il tipo di conoscenza della mente umana fosse con un segmento. Un segmento diviso in quattro parti, uno molto piccolo, una parte molto piccola e l'altra parte molto grande. Lui divide proprio il stato di coscienza della mente umana in quattro. I primi tre, vabbè, ora non li sto a leccare tutti, però sono tutti condizioni in cui la mente umana si trova insieme, ovvero in cui il più evoluto di queste tre stati è quello che Platone chiama la dianoria, il pensiero discorsivo, quello che noi utilizziamo per cercare di comprendere le cose. È un pensiero processuale, è un pensiero che si muove fra le idee, che passa da un'idea all'altra, che procede per l'associazione di idee, e è un pensiero a cui si possono raggiungere importanti risultati nella matematica, nella scienza. Insomma, la forma di pensiero che comunque anche noi, uomini più o meno intelligenti, usiamo nella nostra quotidianità. Noi usiamo la forma di pensiero distorsivo. Ma poi c'è un'altra forma di pensiero, dice Platone, che è il nos, che non è più un pensiero distorsivo, non è più nemmeno un pensiero egoico, perché il nos, questo verbo, questo nome greco che deriva da verbo, un verbo che è noen, che vuol dire sì pensare, ma nella letteratura antica vuol dire scorgere, vedere in un attimo, cogliere in un attimo. Ebbene, questo nos è una parte della nostra mente, che non è discorsiva, è una parte della nostra mente con cui si può cogliere le cose in un attimo. È stata tradotta variamente come intenzione, intuizione, scusate, dai commentatori, eccetera, medievali, fin rinascentali, ma qua in realtà si sta parlando di uno stato di coscienza diverso da quello in cui versiamo noi quotidiano. Ed è proprio questo il punto del mito della caverna, che è lo stesso dei misteri di Eleusia, è cambiare lo stato della coscienza. Questo era l'obiettivo dei misteri, era cambiare lo stato e la condizione della coscienza. Per fare questo, appunto, i misteri di Eleusia adoperavano un rituale molto complesso che noi non conosciamo, eccetera, eccetera. Ma noi per convincerci di questa cosa oggi abbiamo bisogno della scienza, perché siamo scientifici, abbiamo bisogno che la scienza ci convinca delle cose. Ma per fortuna la scienza si è messa a studiare, insieme all'antropologia, insieme alla storia delle religioni, queste condizioni della mente, e ha trovato che non solo esistono e hanno precisi processi fisici, etnici, ma che portano anche beneficio a chi le pratica, a chi le esperimenta. In sostanza, noi cos'è che sappiamo? Sappiamo che la condizione in cui versiamo quotidianamente del nostro cervello è quella regolata dal sistema nervoso centrale, che regola la percezione, che regola anche la parte discursiva, quindi la parola, il linguaggio, eccetera, eccetera. I neuropsichiatri cosa hanno studiato? Hanno studiato quando questa, per qualsiasi motivo, quando questa componente del cervello viene meno, nel senso che quando gli stimoli esterni si sopprimono per un qualsiasi motivo e il sistema nervoso centrale smette di operare come dovrebbe, si accendono altre parti del cervello che danno accesso ad altri stati della coscienza. E c'è un'opera interessante di uno storico delle regioni che ha studiato proprio le esperienze sciamaniche e le ha paragonate con le esperienze post-mortem, ovvero di quelli che avevano avuto un trauma cranico molto forte, un incidente, ed erano entrati in una condizione, come si dice, tra la vita e la morte, oppure sempre di quelli che sperimentavano su di sé degli allucinogeni, delle droghe allucinogeni molto potenti che sospendevano gli stimoli interni. O ancora quello che raccontavano i monasattività, quelli che erano in grado di raggiungere una concentrazione nella meditazione così potente da mettere da parte la percezione sensoriale, da mettere da parte l'operazione e l'attività del sistema nervoso centrale e di impiegare altre parti del cervello, quindi accedere ad altri stati mentali. Insomma lui, questo Richard Crimello, si chiama, ha fatto un confronto fra tutto quello che gli raccontavano queste persone o su quello che aveva studiato appunto dallo studio dei rischiari antichi, delle pratiche sciamaniche antiche o delle pratiche listeriche, e ha individuato alcuni punti che fanno da base a tutte le esperienze di questo tipo, all'accesso a questa forma, a questo stato della coscienza. e appunto sono la sospensione della percezione dello spazio e del tempo, la percezione della gioia, di una gioia ineffabile, la sensazione di non riuscire a descrivere e a portare con le parole l'esperienza vissuta, proprio perché c'è una sospensione della parte verbale del che ci avviene a quel momento. E, tenetevi forte, tutti quelli che hanno provato queste esperienze, esperimentano un passaggio proprio dal buio alla luce, in particolar modo quelli che vivono esperienze di post-mortem. Quante volte abbiamo sentito vedere la luce fuori dal tunnel. Questo vedere la luce fuori dal tunnel è proprio un qualcosa che succede nella nostra testa, nella nostra coscienza, quando il sistema nervoso centrale cessa la sua attività. Quelli che appunto sono stati clinicamente, sono stati dichiarati clinicamente morti, hanno esperimentato questo passaggio, ovvero attraverso un'esperienza che si chiama quella del mental vortex, quindi un passaggio tortuoso, attraverso un tunnel buio, scuro, hanno esperimentato il terrore dello sparimento e del momento in cui hanno visto la propria coscienza fuori dal proprio corpo e poi sono sfociati in una luce, in una zona, in un mondo pieno di luce, in cui hanno provato tutti sensazione di benessere, di appunto atemporalità, di sostenzione della spazialità e della temporalità e soprattutto di questo contatto con il tutto. Una delle altre cose che tutti testimoniano era questa sensazione che il proprio soggetto, la propria individualità, piano piano svanisse, perdesse, sfumasse sui confini e tutti si sentivano nelle cose, dentro le cose, a contatto diretto con l'oggetto della propria contemplazione. Quindi non più vedete una pianoia in cui noi siamo il soggetto, l'oggetto è di fronte a me e c'è una divisione tra me e penso, è l'oggetto che contemplo. In questo stato, in questa dimensione dell'essere e della coscienza si esterimenta invece un altro tipo di approccio con l'esterno, ovvero io sono il tutto e il tutto sono io. E queste cose sono appunto possibili grazie al fatto che in quel momento il sistema nervoso centrale, che è la zona del nostro cervello, da cui dipende la percezione di spazio e tempo esterno e di conseguenza il nostro io, la nostra individualità, perché la nostra individualità è estremamente legata al momento in cui percepiamo. se io non percepisco, quasi non so, ho smetto di essere, ho smetto di essere io. E appunto quando il sistema nervoso centrale cesse la sua attività, o sospende la sua attività, si provano altre cose. Questo è proprio quello che facevano e volevano provare e sperimentare nei misteri di Elenisi. E non è un caso che, non lo sappiamo, però c'è una studiosa di Oxford, Giulia Ostinolo, che ha fatto un libro interessante, studiando le caverne, l'utilizzo delle caverne nell'antichità greca. E hanno detto perché i greci impiegavano proprio le caverne come luoghi di passaggio, come luoghi di accesso a quest'altra dimensione della mente. Perché appunto la nostra mente legge il balzo, il mutamento dello stato di coscienza come un passaggio dal pugno verso la luce. E quello che appunto facevano all'interno dei misteri di Elenisi era questo, era permettere che gli iniziati di accendere ad un livello di coscienza altro, diverso da quello in cui si versa quotidianamente. E' dello stesso quello che dice, che sostiene Platone nella Repubblica, no? I filosofi certo devono, attraverso un percorso di razionalità, di studio costante, però, devono avere esperienza di quello che è il nus, di quello che è questa parte del nostro essere che è in grado di mettersi in contatto con quello che Platone chiama To Agathon nella Repubblica, che è il bene, ma che non sappiamo anche qui bene che cos'è To Agathon, il bene, è il principio che si trova al di là dell'essere stesso, da cui tutto l'essere dipende. Tutti noi che siamo qua dipendiamo, ma che si trova al di là di questo. Per farlo capire noi chiediamo qua la metafora del sole, no? Il sole che cos'è? Il sole è ciò dal cui tutto ciò che esiste sulla terra dipende, perché il sole permette le piante di crescere, il sole permette a noi di vedere, il sole permette la vita su questo pianeta, però non è questo pianeta, si trova al di là di questo pianeta, motivo per cui se noi vogliamo approcciarci al sole, se noi vogliamo diventare e conoscere il sole, bisogna abbandonare lo stato della coscienza a cui versiamo quotidianamente e fare questa esperienza. Questa esperienza che appunto, ricordate, no? Cosa si diceva quando avevo raccontato di Demetra che mette il fidoletto, questa esperienza che non ti rende immortale, nel senso che non è che non muori se sei iniziato il mistero, certo che muori. Però cosa è successo? Tu, se sei iniziato il mistero, hai già attraversato la morte simbolicamente, hai già avuto l'esperienza di un passaggio dal buio tempo alla luce, ma soprattutto hai già sperimentato quella condizione della mente in cui il tuo ego si dissolve in qualcos'altro. Ed è proprio questo che per i greci è l'immortalità. L'immortalità non è non morire, l'immortalità è quel momento che si apre alla coscienza dell'iniziato o del filosofo in cui il nostro ego, la nostra mente, per un momento solo, che poi appunto siccome è un attimo atemporale, fuori dal tempo, non è un attimo processuale, non è uno, due, tre, ma è un punto, per un momento solo, l'uomo, la coscienza si trova nelle cose e al di fuori del proprio sé. E questo è il momento dell'immortalità, sia all'interno dei posteri delle osi sia per Platone. E con questa suggestione voglio lasciare, pensate che, ora non voglio mettere l'ansia a nessuno, ma nel momento in cui si muore, noi sappiamo che la prima cosa che smette di funzionare il sistema nervoso centrale fa che le altre parti del cervello continuano a lavorare, a restare attive per almeno un quarto d'ora. E cosa succede? In quel momento si rilascia una sostanza, la DMT, che permette al cervello, alla coscienza, di avere un ultimo trip, diciamo, un ultimo viaggio, di vedere e sperimentare proprio quella condizione della coscienza che sperimentavano i greci a Ereus, gli iniziati a Ereus. Questo vuol dire, no? Pensate appunto, i greci non sapevano tutto questo, i greci non sapevano della DMT e del cervello, però sapevano che c'erano stati della coscienza che devono essere sperimentati. Perché quel momento, il momento della morte, che arriva per tutti, è il momento in cui proprio la mente, la coscienza dell'iniziato deve essere pronta ad accettare questo passaggio. E' questo che differenzia gli iniziati e gli non iniziati. Gli iniziati, l'anisterio Ereus, così come il prigioniero liberato, il platone, non avranno paura della morte perché quel passaggio lo hanno già sperimentato, lo hanno già vissuto. Chi invece non ha compiuto quel passaggio, quando si troverà alle prese con questa dimensione, con questa esperienza mentale, corre il rischio di lui, o viverla mai o di non coglierla e non capirla a meno. E allora la dì sì che muore, lì sì che svanisce, se in quel momento non coglie l'essenza di quello che gli si presenta, nello stato e della condizione che sta vivendo. E anche qua ci si può ricollegare un meraviglioso testo della tradizione buddista che è il Vardotodon, il libro dei morti tibetano, che dice proprio questo. E quando si muore ci sono due strade, o ci lasciamo prendere dal panico, che siamo morti, che stiamo morendo, che il nostro corpo non c'è più e quindi viviamo nel terrore la nostra ultima esperienza, oppure consapevoli e corci che quello che sta succedendo è il momento in cui il nostro ego si sta dissolvendo, il nostro io si sta unendo a qualcos'altro, ma viviamo tutto nella pace. E proprio questa esperienza è un tipo di esperienza che oggi molti psichiatri, psicologici, eccetera, stanno sperimentando per guarire da disturbi, da stress post-traumatico, o da altri tipi di problematiche psicologiche. Perché appunto proprio quello storico di religione che ha raccolto tutte le testimonianze di queste varie persone che hanno sperimentato state alterate nella conoscenza, una cosa che accomunava tutti questi era la tranquillità. là erano molto in pace con se stessi, erano molto più tranquilli, molto più lucidi e soprattutto non soffrivano di depressione. C'era gente, appunto, che magari soffriva di depressione che dopo uno shock, dopo un'esperienza di questo tipo, ha spasso, si è più, diciamo, allineata, messa in pace con se stessa. Ed è per questo appunto. Ricordate, no? Come si diceva, no? L'epoca di Platone è un'epoca turbolenta in cui succede di tutto, in cui tutti dicono tutti. E proprio Platone dice, con la sua filosofia, vuole che l'uomo, gli uomini, incominciano a attualizzare a pieno le funzioni della mente e possano vivere finalmente una vita in comunione, in pace, in armonia con quello che è il principio al di là dell'essere, al di là delle cose che associano a tutto quello che esiste e che, anche senza cadere ovviamente, è il misticismo. Questo, parlando così, appunto si può dire questo è il misticismo, no? Di Platone è, appunto, il misticismo non a caso deriva dallo stesso vocabolo a cui deriva mistero. E, al di là di questo, appunto, oggi che sappiamo che queste cose succedono nella nostra mente, sono esperienze che tutti, prima o poi, ahimè, dovremo sperimentare nel momento della morte. Il monito di Platone è l'insegnamento dei misteri di cominciare ad essere pronti e consapevoli che questa condizione deve essere sperimentata, in modo che, come gli iniziati, non diventeremo immortali, ma, a nostro modo, parteciperemo dell'immortalità. Grazie. 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 Se ci sono delle domande dal pubblico o no. Se qualcuno vuole intervenire, commentare, aggiungere... Scusate, io sono arrivata poco fa, ma proprio nel pieno di un'esperienza che io ho vissuto. io sono una persona, diciamo, una virgolette normale, non ho mai fatto yoga, meditazione, però vivo in campagna. E mi è successo proprio. Non cercata assolutamente, perché stavo camminando per strada. Era una sera di ottobre, c'era un vento caldo, tranquillo, e mentre camminavo sull'angine per entrare a casa, c'era un albero, lungo questo filare di alberi, che oscillava. E io lo stavo guardando, a un certo momento, non so cosa è successo, perché non l'ho cercata. Ma io mi sono trovata, come dicevi tu, nel tutto. Sentivo di essere l'atomo. un atomo, una particella dell'universo, non lo so, ma ero lucida. Non è che non avessi coscienza di quello che stava succedendo, però io mi sentivo completamente, esattamente nel tutto, con questo senso di gioia, di benessere. Vedevo questa luce immensa, bellissima, e poi mi sono ritrovata da dove sono partita. Ma non so quanto è durata questa cosa. Potrebbe essere durata un secondo, dieci secondi, un minuto. Ma è stata veramente un'esperienza meravigliosa, che mi ha conciliata, come dicevi appunto tu, con la paura della morte. perché ho capito dopo che questo è semplicemente un passaggio. Poi non sappiamo noi cosa succede dopo, ma il passaggio del corpo fisico, della vita terrena, è veramente incredibile. Cioè, quell'io si risolve, l'ego, che purtroppo dobbiamo mantenere e ci costringono, si era dissolto. Però la cosa incredibile è che io ero lucida, nel senso che capivo quello che stava succedendo, nonostante io mi sentissi nel tutto e sentivo di essere un atomo. Io non so cosa è successo veramente, se questo albero mi ha ipnotizzata, se sono entrata allo stato di… ma non l'ho cercata, non l'ho voluta, camminavo per strada. È stato veramente molto, 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 molto importante. Grazie. Grazie, Serenella. Chiedo una cosa. Il film Stati di allucinazione, che è un film degli anni 70, che mostra che esistono delle pratiche particolari senza assunzione di sostanze, hanno un fondamento scientifico oppure no. Beh, diciamo che gli psichedelici, le sostanze psichedeliche come l'LSD, la mescalina, la psilocidina, sono tutte scorciatoie per il nostro cervello, per raggiungere quella condizione in cui si verifica l'esperienza del contatto con l'altrove, l'esperienza mistica, il viaggio astrale, eccetera. È solo una scorciatoia perché proprio agendo sul sistema nervoso centrale e modificandolo questo permette questo cambio della percezione che nel caso appunto di piccole dosi si manifesta solo come piccole allucinazioni, nel caso di pesanti allucinogeni come potrebbe essere il peyote o quegli allucinogeni che impiegavano gli sciamani ad una volta, in quel caso appunto si verifica nella mente, nel cervello questa condizione. Diciamo che, sappiamo che questi stati della coscienza sono tutti determinati da un mutamento a livello biochipico del cervello, ma che questo non ne intacca, diciamo, la vividità perché, come diceva giustamente la signora che è andata prima, anche una delle cose che tutti, sempre quel libro che dicevo di Richard Crimello che ha raccolto tutte le esperienze, una delle cose che dico comunque tutti è che l'esperienza era vivida, non era come un sogno. Il sogno ce lo ricordiamo, spiadito, che era il sogno. No, l'esperienza era vivida, come vedere e parlare qualcuno, come finire tutti i giorni. Anzi, semmai l'impressione è quella di essere più vicini alla verità delle cose. Quindi il fatto che questi stati della coscienza siano determinati da processi fisiologici non cambia nulla, ma ha il loro potenziale mistico e anche ortologico, nel senso Empedocle, un altro grande sapiente dell'antichità, era solito dire che questo stato della consapevolezza, dell'unione con il tutto, non si raggiungeva concentrando dei pravides che era un organo intorno al cuore, presente nel sangue intorno al cuore. Ovviamente, Empedocle non conosceva il cervello, il pensamento del cervello, ma se l'avesse conosciuto non avrebbe cambiato nulla della sua filosofia. La sua filosofia sarebbe rimasta la stessa e lo avrebbe detto benissimo, succede nel cervello, succede che i luoghi temporali si azionano nel centro, che in quel momento la nostra mente entra in contatto con una realtà, una realtà oggettiva come tutte le realtà che ci troviamo di fronte. E sta poi appunto a noi in quel momento e alle nostre reazioni, in quel momento diciamo vivere bene o male quell'esperienza. Ma quell'esperienza in sé può essere tutto quello che nel secolo è stato chiamato l'eterno, il contatto con il mistico eccetera eccetera. Però sì, tutte queste esperienze hanno radici nella chimica del cervello, nei procedimenti biologici, compresi stati di raffinazione, cioè erano metodi appunto nell'antichità di far venire le raffinazioni. Una di quella era proprio l'incubazione, entrare in una caverna e stare in una caverna per tanto tanto tempo a digiuno, perché deprivarsi del cibo, che sta nel buio, innesca tutta una serie di meccanismi che rallentano l'attività del sistema nervoso centrale e incrementano l'attività delle altre parti del cervello in cui si vivono le esperienze astrali, i viaggi mistici. Allora in quel momento anche una goccia d'acqua, anche di filo di luce che filtra dall'entrata della caverna diventa un'allucinazione. E questo ovviamente si può fare la scorciatoia senza andare in una caverna, prendersi un acido di LST e vivere la stessa esperienza, perché oggi la chimica c'è ovviamente, però diciamo che il procedimento, sì, è il medesimo. Valtiero, ti volevo chiedere una cosa, ma ci sono altri, diciamo nell'ambito delle scritti di Platone, ci sono altre tracce anche a livello di parole, di espressioni, come aveva già notato anche Giorgio Colli, che sicuramente hai visto, che rimandano alle Eusi? Ci vuol dire qualcosa? Sì, ecco sì, è pieno appunto di espressioni che rimandano alle Eusi. Come ho detto prima, Plutarco a un certo punto, quando deve parlare delle esperienze alle Eusine, usa termini che ha letto nei dialoghi di Platone, in particolare nel Fedro, nel simposio, che sono dialoghi collegati fra loro e in cui Platone fa un ampio termine di terminologia misterica e di termini che si riferiscono ai misteri delle Eusi, appunto termini quali l'iniziazione delle Te, ma soprattutto termini come Epocteia. Epocteia è un termine molto forte. Epocteia indicava il momento dell'iniziazione supremo, ovvero il momento in cui l'iniziato raggiungeva il contatto con il divino, con l'altrove, con questa realtà al di là dell'essere. E questo termine Platone lo utilizza sia nel simposio che nel Fedro quando descrive il contatto con l'idea del bello, nel caso del… no, l'idea del bello, sia nel Fedro che nel simposio c'è l'idea del bello chiamata. Poi si tocca l'onna, ton calon, poi Platone cambia, dialogo è dialogo, allora c'è un problema. Se ton calon è lo stesso di tona gazzonna, vabbè. Insomma, questi sono problemi di interpretazione dei testi di Platone su cui non vi sto ad ammorbare. Però è indubbio che Platone in tutti quei momenti in cui parla del contatto con le idee, della visione delle idee, che è una cosa… voi dite, aspetta, Platone io me lo ricordavo per la teoria delle idee, ma la teoria delle idee non esiste. Platone non dice mai questa è la teoria delle idee, questo, 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 no. Abbiamo solo i dialoghi, che sono opere teatrali, letteralmente, ci sono personaggi che parlano. Abbiamo i dialoghi in cui a un certo punto si parla di questi edos, di queste forme, che sono al di là del mondo sensibile, che noi non possiamo cogliere nel mondo sensibile, ma da quale tutto ciò che esiste è diventata. Sono forme che si trovano in una realtà oltre nel nostro mondo. E tutte le volte che si parla del contatto con queste forme non se ne parla in modo logico, a parte, cioè almeno non nei primi dialoghi, poi ci sono anche dialoghi contorti, come si è visto al parmente. Ma in questi dialoghi almeno, come il Fedro, il Symposium, anche la Repubblica, quando si parla del bene o del bello, se ne parla sempre nei termini di un contatto mistico, di un contatto mistico con una realtà che è al di là delle cose. E nel fare questo Platone utilizza sempre termini che rimandano ai misteri di Averus, appunto Epopteria o Teletè. Lui dice che la sua filosofia è un'iniziazione. E parla della sua filosofia nei termini di un'iniziazione misterica. Nel senso che, appunto, Platone viveva anche un periodo in cui, se vogliamo, i misteri di Averus avevano perso molta della carica sacrale che avevano una volta. I misteri attraverso varie fasi del calimento, no? E, appunto, nell'Atene dei sofisti, nell'Atene di Alcibiade, l'Alcibiade addirittura motteggia, fa una parodia dei misteri dell'Averus. Per questo però viene accusato, viene nel tribunale di Atene di ordine di presentarsi proprio all'indomani della partenza della spezzola in Sicilia. Però sappiamo quindi che, diciamo, attraverso un periodo di detenimento in cui Platone invece vuole, se vogliamo riaffermare questo principio che lui aveva scorto all'interno dei misteri di questa esperienza, lo vuole riaffermare filosoficamente, dicendo, appunto, la filosofia adesso è l'iniziazione, è la nuova teletegna. Molto chiaro. Qualcun altro, qualcos'altro, se no ci fermiamo qua. Angelo, scusa. Due, dai tre, ci fermiamo. Angelo. Nell'ambito degli scritti platonici noi ritroviamo quella che è un po' anche la dottrina pedaglorica delle due vie dell'immortalità. Nell'ambito di tutto quello che lei ha descritto questa sera, secondo lei quanto il concetto di memoria, di anamnesi, ritorna? Perché il post-mortem in alcune civiltà tradizionali è collegato anche al discorso della famosa seconda morte, cioè non si può sfuggire alla morte fisica, si può sfuggire, essendo iniziati, alla morte spirituale, quindi attivando un processo di continuità psichica. Grazie. Beh, certo appunto, quello è il tema dell'anamnesis della memoria, è più legata alla parte dell'orfismo, del pitagorismo, sì, senza dubbio, e ha un'importanza non secondaria a Platone, perché Platone quando parla delle idee parla di anamnesis. Platone dice che quando, che l'anima, quando si incarna, dimentica quello che ha visto nella vita precedente, nella vita prima, nel mondo prima di venire qua. E quello che aveva visto prima erano le idee, appunto, nell'incarnarsi queste idee vengono dimenticate e con il filosofo è ricordarle in vita. Appunto Platone quando usa questo termine anamnesis sa che si ricollega a una tradizione ben precisa, che è quella dei pitagorici, ma anche dell'orfismo, perché nell'immaginario ortico c'è proprio questa importanza che si dà alla memoria al momento della morte, perché l'anima dell'iniziato al momento della morte dovrà riconoscere alcuni segnali che lo portano a non reincarnarsi più, a non finire di nuovo nel ciclo delle reincarnazioni, ma ad andare nel giardino dei beati, nel prato della verità. E mentre nella tradizione pedagogica l'anamnes, l'esercizio della memoria, era fondamentale. Sappiamo che nella scuola pedagogica uno degli esercizi era che ogni membro della sette dei pitagorici alla sera doveva elencare tutto quello che aveva fatto il giorno, tutte le cose che aveva fatto il giorno doveva ricordarsi, doveva avere una memoria funzionante. E questo perché appunto la memoria è una delle componenti fondamentali della nostra vita e della nostra mente, la nostra mente senza la memoria non riuscirebbe a funzionare. Quindi avere, ma non solo, questo è interessante anche quando si parla di esperienze post-mortem e visioni post-mortem, perché ovviamente tutte le visioni post-mortem e le esperienze di questo tipo sono determinate dalle nostre memorie, da quello che abbiamo vissuto, dall'insieme delle nostre esperienze. Infatti c'è l'incontro, no? Con questa esperienza i parenti, i defunti, i cari defunti. Comunque tutte le esperienze sono determinate dal tempo in cui vive l'individuo che le prova, i cresci avevano altre allucinazioni, avevano altre soglie rispetto al nostro. In tutto questo la memoria ha un ruolo fondamentale e anche l'esercizio ovviamente della memoria ce l'ha sia in chiave, questo sia in chiave pratica diciamo, che anche in chiave mistica, no? Perché poi lì la memoria è il ricordo di chi siamo, il ricordo del divino, il ricordo dell'uno da cui proveniamo, no? Il ricordo di quella realtà dal quale proveniamo e al quale dobbiamo ritornare, no? E l'anamnesis è proprio questo termine greco che indica ana, indica su. Per questo mi piaceva Platone perché tutti non ci ricordiamo Platone nella scuola della trena che mostra le sue. L'anamnesis è proprio di tornare con la memoria su, nel senso là da dove siamo discesi in questa realtà, in questa espressione multiforme, eppure è derivanza e derivazione da un principio unitario, secondo gli antichi, al quale meno male noi ritorneremo. E oggi appunto la scienza ci aiuta e ci dice guardate che questi greci avevano ragione, queste cose nella mente succedono. Grazie. 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 Allora, sono felicissimo di avere concluso la parte greca di Mythos Logos con un giovane che ha fatto veramente una sintesi mirabile di un aspetto fondamentale della cultura greca, spesso abbastanza sepolto sui luoghi comuni, no? I greci, non quelli anche le ciani, ma non solo le ciani, anche i territori contemporanei, no? Sono quelli che hanno paura di morire, si lamentano, no? Mimermo, pomero, e devono quindi vivere intensamente questa specie di vitalità lì che ho fondato sul cresimismo. Ma questa è la cultura greca perceo, questa è la cultura greca esoterica, è la cultura greca usata. C'è tutta questa dimensione sapientiale profonda che fa delle nostre radici tre, vicine anche all'Oriente, anche storicamente ormai è stato acclarato, fa veramente una sorta di sapienza recuperabile e applicabile ai tempi nostri, ovviamente secondo i suoi modi. Poi grazie anche per questo sguardo psicologico nostro, vediamo sì, molto interessante. Bene, grazie Gontiero, grazie a voi, ci vediamo oggi i dunno. . . Grazie a tutti.